cari amici tre da buongiorno oggi è il 22 di gennaio andiamo a fare l'analisi sulle candele weekly e daily per la settimana che va dal 25 al 29 di gennaio partiamo con il forex euro dollaro che come vi avevo indicato l'area di un punto di riferimento era 1 15 712 non è stata toccata vedete che siamo nel g4 vedete che la media 200 è sempre rivolta verso il basso per momento siamo in una fase possiamo dire di attesa non c'è niente da fare se lo guardiamo sul grafico delico le medie migliori non vedete che la mensile e il due mesi ci troviamo in un'area di lateralità e l'annuale in discesa vedete che per il momento quello 1 14 214 che ho detto che era un punto di di partenza si doveva partire al rialzo per momento non è stato toccato il treno io avevo dato che il target era 11 e 0 35 staremo a vedere la sterlina la sterlina anche lei niente da fare mi ricordo che avevo detto di monitorare quello 137 628 che è andato a non ha superato vedete che la media 50 era piatta per il momento anche questo potrebbe essere un g4 non facciamo niente non ci sono le condizioni a mio potere personale di entrata e vedete che sembra voler partire rialzo vedete che al momento qui c'è stato il 12 gennaio scusate il 14 gennaio c'è stato questo questo massimo e poi vedete che è ritornato ancora al ribasso vedete che anche la media annuale si trova laterale per momento vedete che questo è un punto di molto importante vedremo se andrà a vedere quell'138 per momento siamo alla candela numero vedete al minimo che è stato fatto qua siamo alla 24 per momento non facciamo niente aspettiamo di vedere c'è troppa incertezza il dollaro yen niente da fare dopo aver fatto quel 115 non vuole andare a prendere quel 118 che io avevo dato per me il trend rimane comunque sempre non vedete che il dollaro yen vedete che adesso sembra andare in una fase di lateralità vedete che per momento vede che l'annuale rimane long però vedete che qui stesso siamo in una fase di lateralità terminiamo con il dollaro canadese e donna canadese che niente da fare lui sempre quella fase di laterale vento il dono canadese al momento si parla solo di shot e laterale vedete short un mese due mesi e l'atturare l'annuale adesso andiamo a vedere gli indici che molto importante l'indici vi passo vedere guardate avevo dato quel 247 come target questo potrebbe essere da partenza del g1 o il g4 stremo vedere però è andato a prendere quel massimo che io avevo dato a 2 e 47 mesi che è stato preso e adesso se andiamo a prendere il mensile andiamo a vedere il mensile quale potrebbe essere il prossimo target eccolo qua vado andare a prendere il mensile del del nostro ecco gli indici scusate eccolo qua vedete che il prossimo target poteva 317 che vado a mettere qua 317 e il il prossimo target che per il nostro le commodity prevedo un'altra salita molto forte con il tempo allora 317 lo mettiamo eccolo qua ok vedete che è stato preso 317 ho detto 314 c'era già la freccia però comunque lo tolgo lo tolgo lascio il 314 vedete che per il momento siamo sempre in una fase di salita e vedete che se lo andiamo a vedere sull'annuale vedete che le commodity sono tutte scusate l'indice delle commodity eccolo qua vedete che continua il suo rialzo tutto rivolto verso l'alto e sicuramente andrà a prendere quel 314 che siamo in attesa di vedere il vix vix che è partito siamo sempre una fase di tale fino a che non rompe quel 31 e 30 potrebbe andare a 50 per momento il vix ha cessato questa settimana una forte di che la media 200 e piatte vede che qui siamo prima fase di lateralità e sul vix starei attento e dire che il vix ci sta assegnando adesso potrebbe esserci stata ripartenza ha rotto questa questa resistenza e adesso potrebbe andare a riprendere quel 36 che era stato fatto il novembre nel dicembre del 2021 vedremo che cosa ci farà però l'annuale per me rimane ancora laterale l'indice del dollaro vedete che inizia da fare quel 97 non è andato a prenderlo ancora però il trend rimane ancora long e l'indice del dollaro vedete che al momento siamo una fase laterale però l'annuale è long il down jones down jones avete che ha rotto la media 50 attenzione eravamo non g3 ho detto che poteva andare a prendere quel 33 164 staremo a vedere che cosa succede qui siamo in molte incertezze sicuramente ci sarà una discesa degli indici se lo guardiamo sul grafico dei lo vedete che l'annuale rimane ancora long però vedete che un mese due mesi è andato già a prendere quel minimo che è stato fatto a dicembre 2021 e adesso vedete che potrebbe andare a prendere vedete se dovesse rompere questa se dovesse rompere qui vedete allora potrebbe a continuare andare a prendere 33 246 per mento a monitorare il l'indici il dax anche lui ormai vedete che mi lo sposto siamo in un g3 vedete che niente da fare ha detto che poteva andare a prendere quel 14 842 che sto monitorando preventa non faccio niente aspetto prima di fare qualsiasi cosa vedete che qui siamo all'annuale ancora al long però qui siamo una fase di lateralità terminiamo con il mozzi film anche lui niente da fare non è andato poi di quel 28.609 che ho dato si è fermato a 20 scusate se si era fermato eccolo qua a 27.000 a 28.212 era avvicinato però comunque adesso siamo in una fase per me ancora long staremo a vedere che cosa succede però se lo guardiamo nel grafico vedete che siamo ancora long e da monitorare vedete che avevo detto di fare attenzione a questo 26 che non lo spartiacolo se rompe che allora potrebbe anche crollare poi andiamo a vedere le ratio il ratio gold silver gold silver vedete niente da fare il silver più forte del gold se avete come quella media 200 e piatto ho detto che se le medie sono piatte così difficile che vengono rotte e vedete che se lo andiamo a vedere sul grafico daily lo vedete anche voi stessi che il gold silver vedete che è al ribasso vedete che potremmo andare a prendere vedete che avevo messo quella questa freccia a 73 mila e vedete che ci sta andando il down johnson contro il gold vedete che c'è stato questa chiusura adesso del g3 attenzione potrebbe adesso da monitorare la media 200 che potrebbe fermarsi qui prometto aspettiamo di vedere cosa succede e il down jones gold vedete che guardate come avevo indicato vedete che sta andando a prendere quella resistenza quel supporto dinamico vedete che andato a prendere il minimo del 2 luglio 2021 vedete che ormai è tutto al ribasso anche se l'annuale long per momento adesso c'è una forza del gold poi se andiamo a vedere adesso il platino platino che contro gold vedete che c'è stata una forte candela questa settimana però il trend per me qui c'è tanta gestione affinché non rompe 06 sarei molto attento sul nostro platino platino che vedete continua però a salire e staremo a vedere a 0 6 qualora dovesse rompere lo potremmo andare a prendere andare qua per fare il minimo del luglio massimo del luglio 2021 adesso andiamo a vedere le cripto cripto eterion bitcoin vedete che bitcoin molto più forte di eterium vedete che c'è l'eterno crollato e vedete che se lo guardiamo eterium contro bitcoin vedete che c'è lo short che avevo dato ho detto di monitorare quel 0 69 guardate preso toccato e adesso staremo a vedere che cosa succede attenzione che questo è lo spartiacque per momento qui andremo a vedere che cosa succede per momento siamo in chiusura di un ciclo qua vede che partito ottobre ottobre se lo guardiamo ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo dovrebbe fare il minimo a marzo siamo a 94 barre e ci potrebbe stare ancora la chiusura del cripto sicuramente scenderà crollerà ne vedete guardate quanto è crollato l'eterno se guardate che da novembre novembre a oggi vedete che è crollato del 50 per cento dimezzato quando è partito a luglio vedete luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio qui dovrebbe fare un minimo adesso attenzione però siamo chiusura del ciclo rischia di andare a prendere i 1.709 attenzione attenzione sulle cripto perché ci potrebbe essere adesso e lo vedete qui sul grafico dei riguardati avevo dato questo target e vedete quel target è stato preso vedete quel minimo non so avevo detto di a fare attenzione a quel minimo del 10 gennaio se poteva essere importante vedete che l'ha rotto questo allora vuol dire che adesso il minimo importante diventa questo testo che bisogna fare attenzione perché se guardiamo il minimo che è stato fatto a settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo c'è ancora discesa e qui vedete che siamo alla candela 118 rischia rischia veramente di a di crollare di ritornare a 1731 attenzione attenzione l'annuale è piatto e qui si sperimento si sta parlando solo di short il bitcoin bitcoin niente da fare anche lui crollato ma rotto il 39 mila 563 avevo dato che target di fare attenzione a 28 mila che questo poteva essere lo spartiacque se dovesse rompere questo allora qui veramente si mette veramente male e vedete che il bitcoin vedete guardate crollato vedete che quel minimo del 10 niente da fare e anche qua adesso vedete come avevo indicato da analisi attenzione potrebbe andare a prendere quel 28 mila attenzione uniswap niente da fare lì ha rotto anche qua la trendline niente da fare anche qui è andato a prendere quel 12 adesso ci sarà da vedere che cosa succederà rischia veramente anche lui di crollare vedete che nel cripto sono tutte crollate vedete avevo dato la freccia vedete che è andato a prenderlo adesso andiamo a vedere le commodity le commodity il web vedete che è ancora rialzo fatto un'altra candela verde e il web vedete che anche qua per momento vedete che siamo in una fase di rialzo sull'annuale qui siamo una fase laterale starei attento sul web la soia grande partenza dalla soia dopo aver fatto quel minimo arriva ripreso potrebbe ritornare a 1460 la soia attenzione ha fatto questo minimo qui potrebbe essere il minimo di gennaio questo potrebbe essere un minimo importante che potrebbe portarlo a 1463 poi il gold gold che ha rotto la resistenza dinamica staremo a vedere se andrà a 1919 attenzione che siamo una fase laterale potrebbe adesso partire molto forte vedete che sono vedete che sono molto forte la tetra si rompeva e 1893 di 1837 potrebbe andare a 1871 il massimo che è stato fatto a novembre attenzione sul gold perché ci potrebbe essere una partenza forte l'argento l'argento grande ripresa vedete dopo questo minimo del 13 dicembre attenzione perché se rompe i 25 allora potrebbe volare staremo a vedere cosa succederà sull'argento l'argento vedete che continua a salire e attenzione che le medie sono tutte rivolte verso l'alto però attenzione l'annuale l'annuale per metto non mi sta convincendo vedete attenzione però potrebbe ripartire poi il petrolio petrolio che ormai è quello 85 è stato fatto il petrolio che vende lo prevedo a 100 questo è il target che mi dò 100 dal petrolio petrolio che sta volando anche lui è sicuramente il petrolio il centro le raggiungerà molto presto vedete che tutto è rivolto verso l'alto staremo a vedere che cosa succede il platino platino questa settimana settimana forte che la media 200 era qui questa è la chiusura del g1 poi è partito il g2 e vedete che adesso potrebbe andare a prendere attenzione per una media 50 potrebbe andare a prendere i 1139 il platino monitorarlo perché potrebbe fare veramente una grande partenza vedete che andato a prendere quel target che avevo dato vedete che adesso staremo a vedere prossimo target potrebbe essere questo saremo a vedere se andrà a prendere i 1111 tutto rivolto verso l'alto però l'annuale attenzione poi andiamo a vedere il caffè caffè che al momento rimane sempre long vedete che c'è due settimane di incertezza vedete che il caffè al momento rimane ancora long il gas di da fare c'è stato ha fatto quel 484 non è ripartito questa settimana ha chiuso con una candela negativa per vento sul gas gas veramente vedete che qui questo è lo spartiaco se dovessero 1 per 371 rischia allora di crollare poi il copper copper che ormai sono mesi che lì fermo laterale nido da fare copper è inutile tradarlo ovviamente in una fase di accumulo vedete però adesso potrebbe partire e tornare a 4 70 staremo a vedere poi il cotone cotone che anche lui vedete continua al suo rialzo vedete vediamo se andrà a prendere quel 133 il cotone vedete eccolo qua che continua al suo rialzo vedete che tutto prossimo target 133 che io avevo indicato lo metto con la freccia questo è il target id del cotone il riso attenzione sul riso che il riso pian pianino sale riso rischia che andrà a prendere i 18 il riso il prossimo target secondo me eccolo qua il riso il prossimo target andrà a prendere qua i 16 staremo a vedere il riso che anche lui al momento vedete che è solo al rialzo e continua la sua scalation il cacao cacao invece gli da fare ormai il cacao è intradabile non si può fare niente anche se qua sembra volereato però è laterale probabilmente sul cacao non lo trado non ci sono le condizioni entrare termina con la zucchero niente da fare anche lo zucchero non è ancora andato a prendere quel 21 per momento siamo anche qua in una fase di laterale e lo zucchero vedete adesso siamo in una fase laterale l'annuale rimane ancora l'on io vi ringrazio vi auguro a tutti una buonanotte e ci sentiamo settimana prossima ciao a tutti